ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv e con questo ce l'ho mi manca della raccolta della champions league 2020 2021 ragazzi ecco qui queste sono le figurine che abbiamo andare attaccare sul nostro album iniziamo immediatamente dal barcellona abbiamo trovato griezmann quindi saltiamo real madrid andiamo direttamente al barcellona dove abbiamo la numero 18 che va qui che ci manca poi abbiamo l'atletico di madrid con la numero 2 che ho black in questa figurina gigante poi dobbiamo andare al siviglia con la numero 4 eccolo poi liverpool dove abbiamo la numero 11 che ci manca allora ragazzi liverpool 11 si poi abbiamo manchester united 11 eccolo che è mata poi abbiamo la numero 12 che è pogba che ci manca e va qui poi andiamo al celsi col numero 7 che ci abbiamo quindi il doppione sempre al celsi abbiamo la numero 14 che è covacic ex giocatore dell'inter e del real madrid poi andiamo all'inter quindi andiamo avanti andiamo alla pagina dell'inter qui abbiamo la juventus l'inter con la numero 2 che è scrignar ecco qua poi abbiamo la numero 6 che è akimi poi abbiamo dell'atalanta numero 7 atebor poi della lazio abbiamo la numero 4 patrick che ci manca poi abbiamo il bayern monaco con la numero 5 che è boateng poi abbiamo della red bull la numero 11 che va qui poi abbiamo la 12 del borussia montchenblanc poi abbiamo la 12 del borussia montchenblanc poi andiamo al paris saint germain dove abbiamo la numero 3 che è navas poi abbiamo la 16 dello zenith che ci manca e la numero 18 sempre dello zenith zenith che è un'altra mancante qua abbiamo la numero 5 con luca della locomotive mosca poi il porto dobbiamo arrivare al bruges con il 13 la figura numero 13 ce l'abbiamo che diatta poi abbiamo lo shaktar numero 9 dello shaktar che va qua la numero 13 dello shaktar che invece va qua che è con oblianka con oblianka poi abbiamo l'ajax con la numero 11 dell'ajax che va di qua poi abbiamo tutte le poff della prima poff 18 che va qui sotto che è della dinamo poff 27 che va di qua poi abbiamo la 42 del salisburgo la 64 la 73 la 78 che ci abbiamo che è il doppione e poi abbiamo rising star la numero 4 che mi manca ecco qua che è garzia del manchester city ecco qua ragazzi per questo ce la mi manca è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ecco qua